Cominciando dal gazzettino, Mose a Orsoni, due anni e tre mesi, Orsoni è stato l'ex sindaco di Venezia, argomenti inconsistenti, dice, pene esorbitanti. La procura chiede la condanna degli otto imputati, sei anni all'ex ministro Matteoli, quattro per la piva. E poi il mattino sbarchi lo schiaffo di Macron, il secolo XIX Italia è pressing su Macron, la gazzetta del mezzogiorno, Migranti, l'Europa in barca e poi l'arena Profughi, Parigi, Gela, l'Italia. Chiudiamo con l'avvenire, Charlie senza scienza e senza più speranza, riprende con un gioco di parole, l'avvenire si riferisce appunto al bambino colpito da una rara malattia genetica. I giudici hanno deciso di spegnere le macchine che lo tengono in vita, il dolore dei genitori che hanno invece chiesto che si continuasse a mantenerlo in vita fino al ritrovamento di una medicina speciale per guarire questa grave malattia, appunto una malattia rara. Riporta l'avvenire, c'è da segnalare la vicenda del Cardinal Peri a processo, però c'è il virgolettato del Cardinale che dice io innocente nonostante il provvedimento del Papa. Bene, è tutto per la nostra rassegna stampa, siamo in ritardissimo nel collegamento con Gino Galli, quindi ancora una breve pausa musicale, il tempo di preparare il collegamento con il segretario del Sinaggi di La Spezia. A tra poco. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.